Grazie a tutti. 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 Perfetto, ok. Proviamo con questo. Poi leggo un po' di vostri messaggi perché vedo che in tanti mi scrivono. Grazie a tutti. Ok giusto per le ore, giusto per essere sempre in bolla, giusto per essere sempre in bolla e sempre in un po' di voi. Al 2 maggio, sabato 2 maggio abbiamo questo bell'appuntamento, è il primo appuntamento ufficiale, speriamo che venga riconfermabile, nel senso che voi sapete che le notizie qui si susseguono, ogni giorno ce n'è una diversa, ma noi speriamo per il meglio e quindi il 2 di maggio sicuramente saremo tutti a divertirci con la prima dello spettacolo che adesso vi faccio vedere anche la grafica. Swing Rock & Love partirà di nuovo questo tour dal 2 maggio, perciò mi raccomando, i biglietti per i pesaresi o le persone che hanno acquistato il biglietto a Pesaro restano validi per la data nuova, quindi quella del 2 di maggio, ma ovviamente per chi volesse il rimborso si deve ricare al teatro, deve contattare il Teatro Rossini di Pesaro. Per quanto riguarda invece le altre date del tour ci sono degli spostamenti che vi verranno comunicati quanto prima, Francesco Fabri è qui in linea, quindi lui già l'altro giorno gli abbiamo telefonato in diretta e ci ha rassicurati, nel senso che tutte le date verranno recuperate assolutamente il prima possibile. Allora, ho visto uno spostamento a Pesaro, infatti mi scrive Sara Antonelli, ecco bravissimo, fammi leggere un po' di messaggi qua perché mo' ci divertiamo. Eh, è il bello quello, capito? Voi dovete munirvi, dovete stare sul divano comodi, munirvi di cellulare e mandarvi messaggi, così io poi li guardo e mi diverto un sacco. Allora, fammi vedere un po'. Ciao Matt, chi sono? Ah no, la Maria, questa è quella che l'abbiamo vista prima, la signora Maria. Ciao Matthew, saluti da Portovecchio, scusate, abbasso un attimo il volume qua della cuffia perché mi ha fastidio, ah, perché ho una cuffia sì, una no, e poi, ah, per le cuffie, fammi ringraziare perché mi sono state regalate da Cry Air Motion, visto che ci siamo, faccio un po' di pubblicità a questa azienda che si occupa di in-ear monitoring, vedi, vedi queste cose qui, ME, tutte serigraffate giuste, tutte in bolla. Allora, fammi vedere, ciao un bacione da Marina, Maria mi chiede come sto, sto bene, sto bene, sto bene, siamo in zona super rossa, in zona milanese, io vivo in provincia di Milano, quindi, ma ormai siamo tutti rossi. Allora, Matthew vogliamo My Way di Frank Sinatra, guarda, no, io non ricordo quella canzone bene, cioè, insomma, so qual è, però non la ricordo, ma me la segno subito e perché la verrà fatta durante le prossime dirette, quindi My Way e me l'hai chiesta, vediamo chi me l'ha chiesta, attenzione, My Way Nick Carboni, Nick mi ha chiesto My Way, perfetto. Mi segno un po' di cose, voi mandate dei messaggi, scrivete perché è quello la figata. Allora, ho visto lo spostamento di Besero, ciao Matthew, Luciano mi chiede una roba da musicista, ciao Matthew, canti con un beta 58? Questo qui è un SM58, però passa attraverso il logic con tutta una serie di effetti e di cose, con un compressore, eccetera, e invece, però, questo non è per il live, durante il live uso il beta 87, credo che si chiama, credo, mentre invece lì, per registrare qui nel mio studio, ho un Neumann, quello che vedi qua dietro, questo qua. Allora, fammi togliere la locandina perché di questo abbiamo parlato, molto bene, allora, fammi vedere un po', sono in quarantena, i miei hanno la febbre, spero che tutto vada bene. Paolo, grazie per questo piccolo momento di evasione. Paolo, qui mi sa che siamo tutti sulla stessa barca, quindi ci dobbiamo far forza insieme, io ci provo con la musica, il mio ruolo è questo qui, però sono sicuro che se tutti osserviamo le regole, vedrai che passa presto. Speriamo per il meglio, allora, nonno Leo mi scrive, nonno Leo, caro di serie, allora, nonno Leo perché lo conosco, lo conosco bene, una bella canzone di Roy Orbison, My Way approva anche Vincenzo Papparella, buonasera, buonasera, ve ne faccio un'altra perché innanzitutto io qui mi sono segnato una roba l'altro giorno, mi sono segnato delle canzoni e allora vado con un brano lento, una ragazza l'altro giorno mi ha chiesto un brano, ora io non ricordo esattamente chi fosse la ragazza ma ricordo perfettamente il brano, quindi mi rimetto la mia bella cuffia nuova e vi suono questa canzone che io facevo e ho inciso anche, si intitola Bridge Over Troubled Water e me la faccio subito. Ve la faccio a richiesta perché mi è stata fatta proprio la richiesta ufficiale, quindi io l'altra volta, durante l'altra diretta, perciò ve la suono subito. Perciò, 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 se ti faccio. in your eyes I will dry them all I'm on your side But when times get rough And friends just can't be found Like a bridge over traveled water I will lay me down Like a bridge over traveled water I will lay me down When you're down and out When you're on the street When evening falls so hot I will confold you I'll take your part When darkness comes And pain is all around Like a bridge over traveled water I will lay me down Like a bridge over traveled water I will lay me down Like a bridge over traveled water I will lay me down Come on Keep you Thank you amici, allora perché io sento gli applausi, quindi ringrazio oppure se, insomma, io sento tutto sento tutto da qua sento l'energia l'energia, la vostra energia allora fatemi dire una roba, ah, guarda, mi segno anche questa perché ho letto poco fa che qualcuno mi ha chiesto qualcuno mi ha chiesto hit the road jack, hit the road jack di Ray Charles quindi me la scrivo subito hit the road hit the road jack ok, qualcuno me l'ha scritto adesso non trovo il messaggio, quindi non mi ricordo non mi ricordo chi ha scritto però qualcuno ha scritto, fammi vedere perché qui siamo sommersi di tecnologia meno male in questi giorni, allora non ho splittato in serio veramente ah, ho sbagliato allora ops, ah, vabbè vedi, 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 vedi eh, purtroppo ragazzi, talvolta che peccato, era venuta bene vabbè, l'avete sentita male, allora allora mi distrai dal coronavirus dice Elisabetta si è dimenticato di splittare eh, che peccato amici, vabbè, ve ne faccio un'altra ve ne faccio un'altra no, in realtà ho splittato il problema è che non ha preso si è del bottone devo sempre controllare per la miseriazza vabbè, vi faccio un'altra roba vi faccio un'altra cosa vi faccio un altro brano perché mi devo recuperare questa roba qui e ho capito che non andava l'audio digitale cari ragazzi mi si arriva nei messaggi non va l'audio digitale ora lo facciamo andare vediamo se va adesso hey hey ditemi se funziona ok vabbè, allora vi faccio solo l'ultimo ritornello così almeno lo facciamo andare l'ultimo ritornello like a bridge over trapped water over trapped water I will lay me down like a bridge over trapped water I will lay me down like a bridge over trapped water almeno adesso siamo sicuri adesso andava di sicuro quest'ultimo ritornello vabbè dai fammi leggere comunque bravi bravi che mi mandate messaggi mi scrivete tutto perché io devo essere al corrente di tutti gli errori che faccio va bene parliamo di una cosa figa parliamo di una cosa figa ragazzi questo nuovo spettacolo quest'estate sarò in giro oltre che con lo Swing Rock & Love Tour anche con il tour insieme a Paolo Belli il mio amico gli telefoneremo in diretta non stasera perché ha da fare il riunione l'ho chiamato prima ma lo chiameremo in diretta proveremo sabato oppure quella successiva comunque prima o poi staneremo Paolo Belli anche per questa diretta qui e ci racconterà anche lui la sua esperienza insieme poi guarda lì perché c'è una grande stiva reciproca abbiamo deciso di fare questo nuovo show insieme perché? perché c'è un singolo ci sono delle cose che io non vi posso dire proprio tutte perché se vi svelo tutti i segreti qua ragazzi non va mica tanto bene e allora io adesso vi intrattengo con le dirette con le cose intanto fammi vedere qui che siamo arrivati a 143 connessi tutti insieme che fia ragazzi nuovo orario devo dire che funziona quindi mi avete dato un ottimo consiglio abbiamo fatto il sondaggio ma lo faremo lo faremo i sondaggi per l'orario l'abbiamo già fatto faremo quello per le per la diretta la farò almeno 2-3 volte a settimana quindi su quello siamo tranquilli ma farò dei sondaggi sulle canzoni metterò una lista di canzoni le più votate ve le imparerò perché non ho detto che io le sappia già e ve le suonerò un pezzetto ogni sera ogni sera vi suonerò delle canzoni mi segno un po' le cose che scrivete perché non voglio dimenticarmi le robe magari mi dimentico l'audio digitale però vabbè allora è possibile sentire tempo ad altri tempi eh ho scritto io è certo che sì salutiamo intanto Silvia Barbieri Silvia Barbieri hai fatto mai canzoni con Rose o Hammond? ma li ho suonati nella vita tante volte ma non ho mai non ho mai fatto proprio dei brani con il Rose o con Hammond straordinario due con Paolo vero vedrete dal vivo lo vedrete Paolo bravissimo dal vivo noi ci divertiremo un sacco insieme sarà un bello spettacolo allora ciao Matthew sono Donatella in quarantena in casa con mio marito e i nostri bimbi Angelo Francesco di 3-6 anni per fortuna ci sei tu che con la tua splendida musica accompagni la nostra giornata grazie 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 questo vedi me l'ha scritto Cosimo Marsella grazie cari un saluto a tutta la famiglia da dove mi scrivi scrivetemi anche quando vi mandate un messaggio scrivetemi anche da dove così almeno vi saluto proprio bene intanto scusatemi ma qui mi arrivano continuamente qui dei messaggi mi arriva mi arriva di tutto di più stasera fammi un po' fammi vedere qui allora se l'aui perché qui mi avvertono se faccio delle minchiate giustamente allora non hai splittato in stereo ho viso facciamo la serie allora vediamo vediamo funziona ecco funziona Alessandro perfetto Alessandro facciamo una cosa ragazzi siccome vi mancano i ragazzi della band perché è un po' che non li vedo telefoniamo al drumber va bene li telefoniamo in diretta io adesso lo chiamo subito fammi vedere un po' vediamo un po' guarda qua se ci risponde speriamo che risponda il drumber qua vediamo speriamo che risponda il drumber tra l'altro dovreste sentirlo bene ecco ah allora ci sei allora ci sei guarda che siamo allora siamo in diretta e siamo in questo momento 138 secchi tanti eh saluta saluta tutti bravissimo beh bravo esattamente esattamente sapevano che mi sarei collegato col drumber il batterista ufficiale di Medioli eccolo qua è che vi saluta guarda che c'è una batteria dietro tra l'altro eh sì qui ho creato l'altro perché sapevo che l'avresti chiamato quindi come volò ho fatto la reddizione ho avuto ben fatto ben fatto e ti tengo così perché c'è la telecamera da questa parte se vedi una luce io sono qua no ascoltati volevo dire ma lì come siete messi più che altro siete perché lui è da Ancona è collegato com'è Ancona Ancona è deserta un po' come tutta Italia dall'altro e noi qui stiamo a casa sono due giorni che sono chiuso in casa e purtroppo ancora ce ne saranno quindi speriamo che passi in fretta sta cosa perché è veramente triste ma senti invece invece per quanto riguarda sarai contento la data di Pesaro è spostata il 2 di maggio quindi sembra che ci sia una ripartenza eh sì ho detto prima sono molto contento spero di ripartire ancora prima e quindi al momento invece insomma ci vediamo a Pesaro il 2 maggio quella è confermata te sei carico lui è carico ma lui è sempre carico è quello che dà tutta l'energia prima dello spettacolo lui fa proprio fa capito ci dà quell'energia che ci serve no? sì lo stregone lo stregone drammer lo stregone drammer va bene drammer niente saluta tutti i nostri amici che sono qui collegati e noi ci sentiamo poi privatamente per tutto il resto che è tanta roba buona serata a tutti grazie buona serata ciao a tutti ciao drammer grazie ciao 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 beh beh allora avete sentito dalla viva voce del drammer anche anche lui è barricato in casa fanno lezioni anche loro loro sapete hanno degli allievi ai ragazzi e fanno lezioni molto spesso online quindi vedi che roba che la tecnologia se ci aiuta vedi noi siamo in diretta loro fanno lezioni online allora fammi dire una roba perché adesso voglio suonare una canzone basta vi suono una canzone questo qui è un brano che si intitola Don't the girls all get pretty at closing time che io ho registrato ho registrato già in passato in un disco che si intitolava Italian Roots radici italiane c'entra niente con le radici italiane era una di quelle canzoni poche che avevo fatto fuori dal discorso dell'italianità della mia italianità ma è una canzone molto carina che vi faccio sentire di Mickey Gilley che pensate è un artista country un pianista molto molto bravo che peraltro è cugino di Jerry Lewis e anche di Jimmy Swaggart un altro predicatore americano che voi probabilmente conoscete non lo so ma ancora oggi ha un programma televisivo Jimmy Swaggart americano lui trasmette da Baton Rouge e da lì praticamente fa tutti i suoi sermoni andatevelo a vedere si trova facilmente sui canali satellitari si trova facilmente allora allora vi faccio questa canzone vi dicevo Don the girls I'll get pretty at closing time che è un brano di Mickey Gilley che vi dicevo però ha fatto parte è diventato famoso perché ha fatto parte di un film che si intitolava ma questo forse ve lo ricordate anche Urban Cowboy la canzone fa così e adesso controllo se splitto ditemi ditemi se è splittato tutto giusto perfetto adesso d'ora in avanti d'ora in avanti farò questa roba qua così controllo prima così magari non sbaglio ok Yeah don't the girls all get prettier at closing time Oh it all began to look like movie stars But don't the girls all get prettier at closing time When the champ starts taking place A put the glow on every fate of a falling angel of a backstreet bars If I could read in on a scale of a one to ten Looking for a nine but it could work right in A few more drinks and I must live to five or even four Now it's funny Now it's funny and strange The way a man's opinion changes When it starts to phase on every night on every night on every night Don't the girls all get prettier at closing time Oh it all began to look like movie stars Don't the girls all get prettier at closing time When a chest starts taking place Puts a glow on every fate of a falling angel of a backstreet bars I don't mean to criticize the girls to curse at all You know I'm not Robert Redford even overhaul But we are pictures in our minds A girl that looks just right Mmm Now it's funny and it's strange The way a man's opinion changes When it starts to phase on lonely nights Don't the girls all get prettier at closing time Oh they all began to look like movie stars Oh oh Don't the girls all get prettier at closing time When the chest starts taking place Puts a glow on every face I'm a falling angel of a backstreet bars Like falling angels of a backstreet bars I'm a falling angel of a backstreet bars I'm a falling angel I'm a falling angel Splittiamo l'audio e torniamo con l'audio della videocamera perché qui c'è un bel ah c'è un bel vabbè io lo faccio vedere sempre durante tutte le dirette ma ve lo faccio anche stasera guarda qua vedi tutto il settaggio che roba il counter le cose la luce le storie ma ne metterò anche delle altre metterò anche delle altre salutiamo anche da quest'altro lato e torniamo e torniamo se riusciamo torniamo alla diretta normale vediamo un po' eccola qui oh eccola qui fammi vedere fammi vedere chi c'è fammi vedere chi si è connesso intanto siamo 148 beh allora ragazzi se riusciamo ad arrivare 152 oh è bomba bomba atomica state condividendo la diretta mi raccomando ragazzi fatelo fatelo per favore condividiamo la diretta così diventiamo sempre di più io devo parlare a più gente possibile durante questi momenti perché la diretta dura voi lo sapete 45 minuti 50 minuti la prossima sarà sabato sera alle ore 20 quindi vi aspetto sabato sera vi mettete sul divano col cellulare attaccate la televisione sapete che ci sono le app anche sul televisore per vedere facebook e vedere tutte quelle robe lì vi sparate proprio il programma intero quindi io canterò per voi suonarò per voi come se fossimo a un concerto qual è la differenza? che è gratis quindi è meglio per voi ok dai che ci si diverte mi raccomando mandatevi messaggi con le canzoni che volete ascoltare io un po' me le segno già durante la diretta poi riguardo e quindi ci divertiamo allora fammi vedere un po' allora ogni tanto faccio una dedica dalla prossima volta faccio le dediche eccola qui Gisella Bellini dediche guarda mi scrivo anche questo questo non mi serve perché sto segnandomi il nome della canzone con le persone con le persone che devo intanto fammi vedere l'audio giusto ok no intanto controllo perché con lo spauracchio dell'inizio che avevo cantato mezza canzone senza il piano allora fammi vedere meno male che abbiamo la tecnologia hai ragione eh lo so eh caro mio intanto va bene dai vi ricordo sito internet così così lo facciamo subito eccolo qui eccolo qua zachepe www.miteoli.it qui ci sono tutte le informazioni sul mio conto su quello che mi riguarda quindi soprattutto la cosa più importante è la sezione tour che potete trovare in questo modo vedete adesso non ci sono ancora gli spostamenti delle date ma già sul sito potete trovare quella di Pesaro spostata al 2 di maggio Swing Rock and Love è il tour nuovo che parte appunto da maggio sono anche poi le altre date quella del teatro dal verme di Milano e quella di Bologna che verranno spostate slitteranno non si sa ancora quando esattamente perché i teatri ci devono dare la loro disponibilità ok una cosa che vi volevo dire una cosa che vi volevo dire che è molto molto importante è che ben presto le mie dirette verranno spostate tutte quante in blocco sul mio canale YouTube già c'è una replica di queste cose che io vi faccio la sera di queste dirette c'è già la replica lì sul canale YouTube però la cosa importante è iscriversi al canale che è qui in sovraimpressione Matthew Lee Official il canale YouTube un giorno faremo le dirette soltanto lì un giorno lontano quindi mi raccomando per essere connessi con me dovete fare l'iscrizione facilmente si fa vedi qui ci dovrebbe essere dovrebbe partire la grafica questo è il mio canale YouTube ve lo faccio vedere ogni volta perché è molto importante che ci sono tantissimi video quindi anche quando non sono in diretta voi potete tranquillamente trovare un video che vi piaccia una canzone magari quelle che preferite quelle che vi ho fatto durante i live che spesso vengono ripresi e le inseriamo all'interno del mio canale quindi l'iscrizione e l'attivazione della campanella per essere sempre aggiornati su tutto quanto fammi vedere chi mi iscrive qua allora qui c'è un piccolo ritardo di io trasmetto e arriva un po' dopo quindi i miei messaggi li leggo un attimo dopo ma non importa perché poi li leggo tutti allora sei topo bravo ti ho visto diverse volte ciao super fammi vedere l'audio controllo scusate ormai c'ho la paranoia dell'audio sbagliato perché sapete che switch c'ho tre audi diversi uno è l'audio quello questo qui della videocamera poi c'è l'audio digitale per quando vi canto le canzoni i riverberi i compressori c'ho un audio qui della webcam perché non si sa mai dovesse cadere la linea di questa camera c'ho l'altra e poi c'è l'audio delle sigle e del finale vabbè comunque questo è un problema mio non è però è che devo pensare un po' di roba mentre parlo intanto ricordatevi per favore di condividere la diretta la diretta va condivisa per essere il più possibile dobbiamo essere sabato dobbiamo arrivare almeno a 200 connessi tutti insieme allora vediamo mitico è un piacere ascoltarti grid balls of fire dai te la faccio perché siamo amici chi me l'ha chiesta aspetta fammi vedere ecco l'ho già persa l'ho già persa allora ah Rino 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 Petrillo questa la dedichiamo a Rino Petrillo quindi seguiamo il consiglio che mi hanno dato prima e dedichiamo le canzoni è il momento di dedicare le canzoni switchiamo a Rino Petrillo a Rino Petrillo a Rino Petrillo che mi hanno fatto ecco è un piacere ascoltarti è un piacere ascoltarti Ho switchato l'audio quindi ci ho beccato stavolta, allora, intanto mi scrivono da Lugano, sì 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 sì, non dimenticatevi invece di scrivermi anche la città dalla quale mi state scrivendo, così almeno vi saluto tutti, allora vediamo questo così, Sara mi dice sempre alle 20, sì, sempre alle 20, alle 20, 20 e 30 mi sembra di aver capito, no, alle 20, alle 20, anche sabato in onda alle 20, ok? Che figata comunque ragazzi, scusate, ma sono proprio, mi diverte un sacco fare queste cose qua, mi diverte da voi, mi diverte di più fare i concerti dal vivo, però anche questo devo dire che è una soluzione veramente divertente, quindi figo, spero piaccia anche a voi perché a me piace un sacco, condividete la diretta. Allora, ci rallegri le serate, Franca Ferroni, grande, così, così ti voglio, è vero, è vero, voi rallegrate le mie perché guarda veramente qui siamo tutti sulla stessa barca ultimamente e quindi dai. Allora, yeah, rock and roll, Matthew, c'è un regalo per me, grande, Marco Spina, mandami il regalo, dove me lo vuoi mandare? Mandamelo qua, mandamelo che so, se hai il mio numero di telefono mandamelo sul cellulare, web, aspetta, che qui devo trovare, eh? Questo è il regalo, spero che ti piaccia, ah, guarda che storia, mi ha mandato, aspetta che questa, questa è fichissima, guarda che storia, questo lo utilizzerò, guarda, se me lo mandi gif, anzi guarda, ci penso io, mandamelo via mail, tanto poi Nicola ce l'ha la mia mail, grazie a Marco che ha fatto questo, guarda un po', questo sarei io, questo sono io e quindi adesso utilizzeremo questa, questa cosa qui per praticamente nel durante le dirette, quindi la inserirò nel programma e la manderò in onda all'inizio del programma, guarda che figo, vedi, guarda, la vicino un po' alla camera, fortissimo, io sul pianoforte, beh, ci sta, tra l'altro piano rosso, bello infernale, va bene, grazie, grazie mille, sì, 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 va, chi c'ha il mio numero mi iscrivesse, cioè andiamo proprio alla grande, capito? Allora, allora, ciao da Matera, grande Materi, sì, come si chiamano i cittadini di Matera, Materesi? Che carino, lo voglio, super l'erroa, please, ok, allora, vediamo un po' qui, ogni estate veniamo nelle Marche, ti seguiamo in giro, sei bravissimo, PS, Roma blindata, da Roma blindata, lo so, lo so, lo saccio, Francesca dice, ci vediamo sabato, Steamroller Blues, sei troppo bravo, ti ho visto diverse volte, super da Viadana, grazie ragazzi, nel frattempo siamo diventati 170 in questo momento esatto, ma abbiamo toccato prima, credo che il massimo sia stato insieme, tutti insieme 177 persone, che bello, che bello, veramente, guarda, mi date una gioia pazzesca, ho una carica incredibile, nonostante tutto, questo periodo è difficile per tutti quanti noi, però siete sempre, vi voglio bene, grazie. Allora, vediamo un po', qui dovrei avere un'altra canzone, sì, c'è un rocchettone, c'è un rocchettone che devo suonare per forza, ce l'ho qua, guarda, fammi mettere via sta matita che non mi serve in questo momento, mi rimetto la cuffia e vi suono questo brano, intanto voi, mi raccomando, condividete sempre, condividete, prima, scusa, prima della canzone, prima della canzone, voglio ricordarvi quello che vi ho detto all'inizio, vi ho detto già prima che l'avrei ricordato un po' di volte durante questi 50 minuti, ora insieme più o meno, non lo so quanto durerà la diretta di solito sui 50 minuti, vi dicevo che l'ospedale San Gerardo di Monza è in gravissime difficoltà, sapete, non c'è bisogno che ve lo dica, ovviamente la rianimazione, il reparto di rianimazione è in grave difficoltà e la mia amica Laura Colombo di Brianza per il Cuore mi ha scritto questo messaggio e mi ha chiesto proprio di fare un appello perché hanno bisogno ovviamente del nostro supporto economico, quindi se vi va di fare anche una piccola donazione ha un grande valore per loro, trovate il link con la possibilità di fare il bonifico e tutte le cose che vi servono, sapere, per leggere tutto bene, sul post della diretta, quindi trovate tutto da lì, cliccate e fate, questa è una cosa che ci serve. Allora, vediamo un po', la Tarantella di Rossini, Marcello, perché vedo un Marcello che mi chiede la Tarantella di Rossini, ma l'ho fatta nell'altra diretta, è un brano del mio disco? Piano, vecchio album, vecchio album, insomma, mica tanto, c'è un anno e mezzo e quel brano lì è dentro il disco, però non ve lo faccio perché l'ho già fatta l'altra volta, magari nella prossima. Per adesso vi faccio sentire un altro brano, un altro brano che invece mi piace un sacco, è di Bob Seger, si chiama così il personaggio e fa così la canzone. a disco, I'll never even get me out on the floor, in ten minutes hop and let for the door, I like that old time of rock and roll, yeah, sleep like that old time of rock and roll, the kind of music is the soothing song, I'll reminisce about the days of old, with that old time of rock and roll, yeah. it's not that old time of rock and roll, yeah. All time rock and roll The kind of music is the solo song I'll reminisce by the days of old I like that all time rock and roll It's just like you're digging through a disco You've never even got me out on the floor In ten minutes I'll be left for the dough I like that all time rock and roll Feel like that all time rock and roll The kind of music is the solo song I'll reminisce by the days of old I like that all time rock and roll I like that all time rock and roll I like that all time rock and roll Yeah, yeah, yeah Oh yeah, ok La canzone del film Fammi vedere l'audio Ok, l'audio giusto La canzone del film con Tom Cruise Sì, è proprio questa ragazzi È proprio questa qui È quella dove ballava Cos'era? Top Gun? Forse era Tom Top Gun? Scrivetemelo qua se è vero o no Perché non me lo ricordo Allora, vediamo, vediamo, vediamo Trantai Rossini La canzone del film Tom Cruise Il mio pianista preferito Patrizia Ripamonti Grazie, cara Mua Si suona il piano wizard? Il piano wizard ne ho fatte tre Ne ho fatte tre piano wizard Che sono quelle che ho fatto io Nel mio disco piano Onestamente non me le ricordo di preciso Ma ti suonano qualcosa di molto simile Sai, il piano wizard sono delle improvvisate Che noi abbiamo fatto Durante la fase di registrazione dell'album Improvvisavo delle cose E registravamo Però era una cosa che veniva lì a sentimento Capito? Come spesso accade con quello che faccio Le parti improvvisate ovviamente Per il resto è tutto studiato Yeah Quei ragazzi Allora È stupendo sentirti Grazie di questi show in diretta Non vedo l'ora di sentire un concerto dal vivo A Torino e provincia Ma certo che sì Ma certo che sì Aspetto l'uscita del tuo ultimo disco E io ovviamente il disco è pronto È lì nel computer C'è per tutto Insomma ce l'abbiamo È già stato Però non è riuscito Ovviamente aspettiamo Perché figurati se possiamo farlo uscire In questa situazione Non si può Uscirà più avanti Ma prima Speriamo entro aprile Vi do questa notizia così Uscirà un bel singolo Un bel singolo Quindi Spero vi piaccia Voi fatemi sapere Intanto poi ci sentiamo Via di rete Via dappertutto Mi scrivete Fate ormai Ci sentiamo più adesso Di prima Incredibile sta roba Allora Il mio pianista preferito Ah questo ho già Splish Splash Ivan Mutti Il mio amico DJ Splish Splash L'ho fatta l'altra volta Ivan Quella che fa Guarda Splish Splash Splish Splash I was taking a bed On my cell of the night A wrap up Just Basta Allora Basta Ho fatto un pezzetto Così intanto Per fare una risata Col mio amico Ivan Allora Grazie di stare con noi Con le dirette Ci fai bene Grazie amici Intanto siamo arrivati A 45 minuti di diretta Tra poco Chiuderemo Questa diretta Ma vi do appuntamento Ve lo dico già adesso Vi do appuntamento A sabato Sabato sera Ci vediamo Alle 20 Quindi praticamente Non lo so Se voi cenate a quell'ora lì O se voi cenate più tardi Non lo so Però io vi farò compagnia Di sicuro Per almeno Un 45 50 Forse un'ora Non lo so Dipende da Dalla vostra Dipende da voi Questo è diverso dai concerti I concerti sono io Che do tutto Ma con la diretta Non è così Con la diretta non è così La diretta ha bisogno Del vostro intervento Quindi voi dovete scrivermi Messaggi Dovete condividere la diretta Che questa è la roba fondamentale Che io Fammi vedere un po' Che non prende Ah Condividiamo la diretta Mi raccomando Questo è quello che vi chiedo io Lo spettacolo qui è gratuito Lo faccio io da qua Però Dovete condividere la diretta Mi raccomando Questo è molto molto importante Perché con quello che dico Devo arrivare a più persone possibili Eh Allora 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 Io sono stato cacciato dal conservatorio In tenera età Aspetta ho spostato la telecamera No Ok funziona Perché ho colpito col piede Qui l'ho Piedistato Sono stato cacciato dal conservatorio Quando avevo 20 e qualcosa anni Non mi ricordo di preciso Ma ho fatto circa 9 anni di conservatorio Ne ho fatti 9 in realtà Però mi hanno in mezzo Mi bocciavano Facevano Io avevo dentro un fuoco Che era quello del rock'n'roll E di quello che volevo fare io Che non era la musica classica Anche se ti devo dire la verità Io ho qui proprio davanti a me Adesso Stai a vedere come mi viene Però Mi viene male Però ho questo Che io ogni tanto Tiro fuori Della musica classica E la studicchio Mi metto giù Mi faccio delle cose Tipo questa Per dire Per dire Questo era Uno dei pezzi Del clavicemolo Ben temperato Di Bach Che però Mi serve Perché Sai Ci siamo sempre È sempre importante Essere allenati Le mani Devono sempre andare forti Quindi Fammi vedere Cacciato il ribelle Lo saranno tutti ormai Un diavolo del piano Non lo volevano Fabio Barulla Dice questo Lo prendo come complimento Chiaramente Perché Io ragazzi Ho fatto quello che Ho ritenuto opportuno E non l'ho fatto La vacca apposta Poi alla fine Vedate come doveva andare Allora Vediamo Stila Kiss Un brano mio Questo qui me lo segno Non mi ricordo più Fammi lo scrivere Aspetta Questo me l'ha chiesto Me lo segno subito Vedi Qui bisogna essere interattivi Allora Faccio la prossima volta Te lo faccio Fammi vedere Eccolo perso Che cacchio Aspetta Ci sono le stila Kiss Rosanna No A Rosanna me lo scrivo Rosanna Stila Kiss Allora Rosanna Stila Kiss Segnato subito Già fatto Già fatto tutto in bolla Allora E nel frattempo Mentre sono 48 minuti Che siamo insieme Siamo diventati di nuovo 170 persone Tutte connesse A guardare la diretta Io sono molto felice Perché vuol dire Che voi State proprio Condividendo la diretta Che è quello che vi ho chiesto Grazie amici Continuate a farlo Anche quando la diretta Sarà finita Rimarrà ovviamente Online Sarà ripiazzata domani Sul mio canale Ufficiale YouTube Che è questo No ve lo dicevo prima Canale YouTube Matthew Lee Official Dove potete rivedere le dirette Guardare nuovi video Ascoltarvi le cose I video ufficiali I video mica ufficiali Vedete Qui c'è tutto quello Che dovete sapere Matthew Lee Official In sovraimpressione E intanto Io controllo sempre Di non fare minchiate Perché non vedo lo schermo Ma vedo soltanto La mia tastierina qui dietro E io muovo tutte le cose da qua Allora 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 Saluti da Cosenza Andrea Salerno Grande da Cosenza Non vorremmo mai lasciarti Eh no Ma io torno però Sabato alle 20 Sono di nuovo qua Mi raccomando Voi state sempre connessi Allora E la chitarra che hai Dietro di te È vero Sì 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 Io suono anche la chitarra Da spiaggia però Da spiaggia Chitarra da spiaggia Quella proprio Sai col falò Suono quella roba lì Sì In quel modo E sì La uso per fare i provini Sai io qui registro i provini Delle mie Delle mie canzze Quando mi viene a mettere qualcosa Scendo Per la casa Anche sopra E quindi Vengo qui e faccio Allora Un saluto da Mr. Amuchina Paolo Grande come sempre Matthew Lee Il piace bro del mondo Made in Italy Grande Allora Quando sei attorno a Ravenna Attorno a Ravenna Io ragazzi Sarò da perduto Quest'estate Il problema è Soltanto se ce lo permetteranno Ma credo proprio di sì E dal 2 maggio Noi ripartiamo Quindi al 2 maggio Ripartiamo da Pesaro Con il concerto Quello che vi dicevo prima Che è questo qui Matthew Lee Swing Rock and Love Tour Ci saranno Fiati Sul palco saremo Sette musicisti Ci saranno Ci saranno i ballerini Quindi mi raccomando Una scaletta Completamente rinnovata Per uno spettacolo Incredibile Dal 2 di maggio Perché è stata rimandata All'ata di Pesaro Dal 2 di maggio In giro per l'Italia E non solo E non solo Ti rivedremo anche Negli aeroporti Ma per forza Ma figura di se Non vado negli aeroporti Cioè Negli aeroporti Certo Negli aeroporti Quando vi faranno viaggiare di nuovo Perché adesso più bisogna aspettare Le direttive Governative Quindi voi state a casa Che io sarò qui Alle 20 Sabato In diretta Quindi E mi raccomando Munitevi solo di divano Vi serve un divano Queste due cose Un divano e un cellulare Va bene Quindi voi vi guardate la diretta E mi scrivete tutti Mi scrivete da dove mi chiamate Da dove si Da dove chiamate Da dove mi scrivete Mi scrivete Quello che volete ascoltare Io segno tutto E poi me lo ricordo E me lo riguardo E sabato suonerò ad esempio Hit the road jack Proveremo a fare anche un pezzetto Non lo so My way Boh Non lo so Stila kiss E' quella mia Quindi è facile Un pezzo dei queen Ma ti ricordi Alessandro Se tu vai sul sito Se tu vai sul mio Aspetta Se tu vai su youtube Il mio canale ufficiale Mettili official Troverai Il video che io ho fatto Di We are the champions Sai perché l'ho fatta Quella canzone lì L'ho fatta Perché Fiorello Durante il programma Quando eravamo insieme Nel suo programma Su radio dj Mi aveva detto Ma te con sta voce qua Vai in alto Perché non provi a fare Un pezzo dei queen E io così ho fatto E ho fatto We are the champions La trovi sul mio canale Quindi iscriviti Campanella E poi ti vai a vedere il video Mi raccomando Ci sarà il summer jamborie Non lo so Vediamo se il summer jamborie Avrà voglia di chiamare Matthew Lee Sono stato tante volte però È stato tre o quattro Sono cinque volte addirittura In tempi non sospetti All'inizio E poi anche ultimamente Da Trapani Bisogna la Sicilia Poi vediamo 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 Saluti da Genova La Liguria ci guarda Amici Io vi do La buona serata Con un bel solo Di piano Che ricorda molto Il piano wizard Che mi chiedeva Il nostro amico prima Vi do appuntamento A sabato Alle ore 20 Non dimenticatevi Il link Che vi ho messo qui Sul post Della diretta Perché C'è bisogno Del nostro aiuto Per l'ospedale San Gerardo Di Monza Per la Per il reparto Di rianimazione Quindi mi raccomando Una mano sul cuore E date un'occhiata Al post Ok Ci vediamo sabato Alle 20 Vi voglio bene Siamo stati tantissimi Stasera E sono contentissimo Siamo stati tantissimi Cosimo la più bella canzone D'avore Ecco Si si te la faccio Sabato E così Di mangiare E così E così Ci vediamo Di mangiare Di mangiare Di mangiare Per il rosso Siamo stati Di mangiare Grazie a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.